Amici sportivi, amici, fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio Attenzione perché stasera si gioca, la sesta di campionato parte proprio martedì con il Viuventus contro Lecce Ore 20.45, occhio dunque alla formazione, occhio dunque a scaricare Fantalab per essere sempre di supporto perché grazie a Fantalab c'è anche la gestione della stagione, quindi è importante fare questo passaggio per avere tutti gli indici di scaricabilità in modo che possiate capire anche come gestire al meglio la vostra formazione e vi arriva anche la formazione consigliata in base appunto a questi indici scaricando direttamente la vostra rosa dall'app di Fantalab quindi davvero davvero fantastica l'app di Fantalab, qui sotto trovate il link e fate questo passaggio a titolo di esempio vi metto oggi esattamente qualche formazione, in particolare le prime match quindi la Juventus, il Milan e l'Empoli per capire esattamente come funziona ad esempio la propria formazione della Juventus viene schierato Scesni in porta quindi confermato anche nonostante l'errore di Reggio Emilia con Danilo Bremer e Rugani quindi outgatti, Fagioli, Locatelli e Rabiot come Kenny e Cambiaso in supporto e le punte confermato Federico Chiesa mentre dovrebbe esserci il polacco Milik a posto del riposante Vlaovic vedete di fianco a ogni giocatore un simbolo, un numero, più è verde, più è alto più questo giocatore è utile schierarlo, mentre più diventa rosso, arancione e meno questo giocatore può essere utile alla causa del fantacalcio ad esempio Bremer che non sta avendo un periodo di forma eccellente viene quotato a un 6.4 mentre Danilo che conferma la sua regolarità viaggia su un 8.2 Federico Chiesa che stava facendo veramente il matto nel Juventus a un 9.3 mentre McKennie a un 7.3 quindi la somma di tutti questi vostri giocatori può essere importante e determinante per poi concepire quella della vostra formazione alla prossima giornata di campionato Idem per quanto riguarda Lecce con un Lecce che sta facendo i record personali per quanto riguarda la propria formazione, la propria squadra con un Falcone che è veramente granitico in porta a 7.2 difesa che può pagare un po' il dazio della trasferta di Torino con Gallo, Pongaracici, Paschirotto e Gendrei che viaggiano tra un 4.7 e un 6.2 Idem il centrocampo con Rafiakaba e Ramadani e poi le punte confermate ancora Outbandà con strefezza in inserimento Anquis dall'altra parte e poi il Montenegro Cristovic con un 7.9 nonostante il gol che non è arrivato nell'ultimo match ha comunque dimostrato grande forza l'attaccante centrale del Lecce Passiamo ad analizzare Cagliari-Milan un Cagliari che effettivamente può essere un po' in infilata contro un Milan che vuole continuare a vincere non c'è praticamente nessun sufficiente tranne Vietesca con un 6.7 per tutti gli altri sono tutti rossi visto che il match diventa davvero davvero complicato verso la sufficienza abbiamo Azzi Diakos abbiamo Luvunbo e abbiamo partiere Radunovic tutti gli altri ampiamente sotto il 5 come possibilità di schiarabilità un Milan che invece contro l'altare effettivamente viaggia quasi tutto sul verde attenzione perché Jovic potrebbe essere del match con un 6.4 potrebbe essere la sua partita e quindi attendiamo con ansia il gol dell'ex Real Madrid attenzione che in difesa potrebbe starci Chiher a supporto di Tomori Contiò spostato a destra e Hernandez a sinistra questa potrebbe essere una variazione al posto dell'infortunato Krunic per lui vedremo quali saranno i tempi di recupero ci sarà Tommaso Pobega occhio anche a Rafa Leao che viaggia su una schiarabilità di 9.5 ultimo match che andiamo ad analizzare poi per tutti gli altri indici vi invito a scaricare appunto l'app di Fantala qui sotto trovate il link parliamo di Empoli contro Salernitana Empoli che vuole portare a casa il primo gol e la prima vittoria in campionato con Beriscia in porta e Buoi Varukiewicz Luperto e Pezzella in difesa Mare Marini e Ranocchi a centrocampo Baldanzi potenziale goreadore in questo match con Cambiaghi e Spendi quindi attacco davvero molto molto giovane occhio perché Spendi potrebbe essere una bella sorpresa per questo periodo di campionato e appunto analizziamo la Salernitana che avrà evidentemente ancora out di A con Occio in porta Luvato, Ghiomber e Pirola in difesa Bradaric e Mazzocchi sui esterni difesa quasi tutta sull'insufficienza Martigani è maggiore in mezzo al campo con Candreva 8.5 di quotazione altissima occhio a Castanos ma occhio soprattutto a Giovane Cabral che potrebbe essere ancora del match come titolare quindi puntiamoci su di lui la sua scalabilità aumenta siamo a 6.5 vi aspetto presto vi auguro una buona giornata a Fantacalcio per le stesse necessità sono a disposizione ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti